Ci sono i numeri ufficiali, ossia i dati emersi attraverso lo screening effettuato sottoponendo al tampone i soggetti sintomatici, i loro familiari e contatti. E poi c'è il dato che riguarda gli invisibili, ossia quei contagiati che essendo asintomatici o con lievi sintomi non vengono sottoposti a test e quindi non sono censiti. Secondo la stima elaborata dal docente di demografia dell'Unical Giuseppe De Bartolo, in Calabria ad esempio, anziché 1.100 i possibili contagiati potrebbero essere circa 7.000. Per andare oltre la realtà osservata, quindi andare alla realtà tra virgolette vera, possiamo utilizzare per esempio delle stime sulla letalità effettiva che sono state effettuate in altri contesti. Per esempio in Cina uno studio molto accurato ha dato un tasto di letalità reale, effettiva, intorno allo 0.06, in Inghilterra intorno a 0.95-0.96. Invece in Italia il tasto di letalità effettiva che è stato stimato dall'ISPI, che è un istituto molto serio, molto accorsato, su basi scientifiche solide, ci dà un tasto di letalità effettivo reale per l'Italia di 1.14. Tenendo conto di questo valore, tenendo conto del tasto di letalità osservato, con un semplice rapporto, rapportando il tasto di letalità osservato rispetto a quello teorico possibile, otteniamo il numero di contagi reali, effettivi, per un contagio osservato. Da qui è facile fare la stima del numero dei contagi reali. Nessun allarme, ma solo cautela e l'invito a rispettare le regole sul distanziamento sociale e le precauzioni. Il numero dei contagi reali possibile contiene molti asintomatici o molti che hanno sintomi lievi e quindi che non ricorrono alle strutture sanitarie e che quindi contagiano le altre persone facilmente.